Nel mezzo del cammin... ah no, quella è un'altra allora. Se un manager addormentato nel 2019 si risvegliasse in questi giorni, troverebbe un mondo del lavoro rivoluzionato e faticherebbe a riconoscere i nuovi professionisti entrati nella sua azienda, perché oggi indispensabili, ma anche i vecchi dipendenti che hanno cambiato il loro modo di lavorare. Non saprebbe più misurarli e faticherebbe anche a riconoscere i propri fornitori, partner e gli attori che ruotano intorno all'azienda. Come assumere un talento e perché? Se un giovane che ha finito gli studi volesse capire quale sia la sua strada o volesse conoscere dei mestieri che ha solo sentito nominare ma mai approfondito, se fosse interessato a intraprendere un percorso serio senza dare credito a ciarlatani o sprovveduti, se volesse conoscere quali siano le opportunità più interessanti in questi anni venti, in quale azienda lavorare, con quale ruolo, la lettura di questo libro è una bussola per orientarsi in tutto questo. L'intro perfetta per presentare il lavoro che c'è, il nuovo libro di Luca Maniscalco, proprio oggi, primo maggio, perché dopo SkyTG24, RTL125, ovviamente non poteva mancare i Factor. Ciao Luca, benvenuto all'Infactor. Ciao, un piacere, assolutamente sì. Come vi ho scritto, ho invitato un sacco di gente che mi piace, quindi sono orgoglioso di esserci anch'io. Luca, però, ti va di presentarti al nostro pubblico? Sì, sì, mi sono Luca Maniscalco, lavoro in ambito digital marketing da qualche anno, 16 quest'anno, ho lavorato in agenzia, ho lavorato in ambito formazione per Bocconi, RCS Academy, e nel frattempo, come dire, ho approfondito competenze riguardanti soprattutto LinkedIn, il social professionale, e da LinkedIn, su cui ho scritto il primo libro, che era Affermo, il tuo brand con LinkedIn, sono arrivato in un'evoluzione quasi, come dire, naturale a questo secondo libro, che appunto parla di mestieri digitali nel lavoro che c'è. Eh sì, poi Luca, il tuo libro che vediamo in miniatura, qui nelle grafiche, il lavoro che c'è, quindi scoop assoluto Luca, ti stai dicendo che c'è lavoro, e dov'è questo lavoro? Tanti non lo trovano. No, il lavoro c'è, bisogna saperlo, appunto ricercare, LinkedIn è una chiave di lettura, io sono partito dai dati di LinkedIn, ma in realtà il lavoro per certi professionisti e certi mestieri esiste, come dire, escono spesso delle classifiche sui lavori in maggiore evoluzione, sicuramente questi due anni che abbiamo vissuto di pandemia, di crisi sanitaria, sono stati un'accelerazione per certe tipologie di lavoro che si sono affermate, mi vengono degli esempi pratici, non lo so, i lavori che hanno a che fare con i dati. È uscita la classifica di LinkedIn sui 15 mestieri che hanno avuto un maggiore, come dire, una maggiore impennata negli ultimi due anni, quattro di questi 15 mestieri sono relativi ai big data, quindi non un lavoro ma ben quattro. Si parla di sostenibilità, si parla di lavori legati alla customer relationship, quindi all'umanizzazione, alla persona che sta al centro, quindi lo sviluppo degli algoritmi, lo sviluppo del digitale, poi alla fine hanno, come dire, prodotto un'impennata anche ai lavori che hanno a che fare con le persone fisiche, quindi sì, lo scoop c'è, ma non è davvero uno scoop, è così. Eh sì, il lavoro c'è, però è un lavoro diverso, giustamente come ci racconti tu. Ci spieghi in che cosa sostanzialmente è cambiato il lavoro negli ultimissimi anni proprio? Sì, sì, ne approfitto per parlare del mio libro, diciamo, c'è tutta una prima parte relativa a chi ci dà, diciamo, questo lavoro, alle human resources, i primi mestieri ad essere rivoluzionati, ad essere stati rivoluzionati in questi due anni, sono proprio loro, quindi pensate al lavoro fisico, quindi a come avveniva l'ingaggio, come avveniva trovare il professionista, come farlo crescere in azienda, a come tutti questi processi avvengono oggi, rivoluzionati, e oggi siamo in una fase ancora terza, quindi né online né offline, ma cercando di prendere il meglio da ambedue queste esperienze. Poi i propri nuovi mestieri, ci sono mestieri che non esistevano e che si sono imposti, o mestieri che sì esistevano, ma in realtà non capivamo a cosa servissero, e quindi sono mestieri su cui c'è una domanda altissima. Prima facevo l'esempio dei dati, è uno di questi, mestieri legati a Big Data, ma tanti mestieri legati al digitale. Poi c'è un terzo processo che è quello appunto delle competenze trasversali, oggi anche i vecchi mestieri, chiamiamoli così, sono cambiati e quindi ci servono delle competenze, c'è appunto una grossa falla tra chi le ha e chi non le ha, tra quelle che vengono chieste, quelle che abbiamo, quindi fondamentale, nel libro parlo di come si fa a radio oggi, dopo che il mestiere è tra i più antichi che esistono. E poi c'è un'ultima parte dove appunto la chiamo degli osservatori, dove io vorrei, grazie al contributo di oltre 25 professionisti che hanno scritto con me questo libro, come un po' guardare al di là come i temi della work-life balance, della ricerca della felicità, del figi, tali problemi legati alle minoranze, cioè ci sono un sacco di temi che vanno al di là del bonus economico che puoi prendere in azienda, che oggi sono fondamentali. Bello, bello, bello. Sono tutti temi proprio da Infactor. Tu parli quindi di una serie di nuove figure professionali, poi noi abbiamo studiato perché parli di digital marketing manager, e-brand manager, sales professional, ma ti chiedo, Luca, però è vero sì che c'è, tra virgolette, tanto lavoro, però allo stesso tempo spesso mancano le competenze, tanto che si parla sempre di più di un forte skill mismatch presente nel nostro paese. Quindi ti chiedo, ma le scuole, le università, quanto preparano le nuove generazioni verso questi lavori che non sono poi tanto lavori del futuro? In realtà sono già lavori di oggi. Esatto. Io mi hanno già fatto queste domande e rispondo schede, che se avessi la risposta sarei ministro dell'istruzione. Noi ti proponiamo. La realtà che oggi si va tanto sulle iniziative dei singoli, cioè non è che c'è, non lo so, un disegno di leggero, non so neanche se uso le parole corrette che vada verso questa direzione, quindi ci sono dei casi eccellenti e dei casi meno eccellenti. Sicuramente ci sono, io lavoro da tanti anni nell'ambito della formazione post-universitaria, quindi ci sono dei centri d'eccellenza, ma che sono oltre l'università, però oggi per un ragazzo che si affaccia al mondo del lavoro sono diventati quasi dei passi, come dire, che deve compiere per forza di cose se vuole raggiungere certe posizioni lavorative. Quindi è una risposta complicata, però alla fine, come in tante cose, si arriverà lì. Quindi la domanda sarà come, ma non se, perché se vogliamo lavorare da qui ai prossimi anni, si dice che i nostri figli faranno dei lavori che oggi neanche esistono, quindi dovremmo essere formati per forza di cose. Certo. A questo punto io ti devo proprio fare una domanda. In attesa di leggere il tuo libro, ci dai qualche consiglio? Pensiamo a chi deve inserirsi nel mondo del lavoro o anche semplicemente a chi deve ricollocarsi o vuole ricollocarsi in questo mondo che è nuovo. Ti va di lasciarci un paio di consigli? Sì, sì. Vabbè, ci tengo a dire appunto che il libro è dedicato a tutti, non solo ai giovani, ma anche ai manager che vogliono ricollocarsi, quindi il consiglio è quello appunto di formarsi sempre, il cosiddetto lifelong learning, nel senso una volta si studiava, si lavorava, si andava in pensione. Oggi si studia sempre, quindi bisognerebbe specializzarsi in una materia, in un argomento nel quale noi appunto siamo più forti, quello di nostra provenienza, dove abbiamo iniziato. Avere però una competenza anche larga, orizzontale su altre tematiche, perché oggi è complicato fare solo una cosa, oggi ci capita di relazionarci con tante persone diverse, tanti colleghi diversi, algoritmi, bot, c'è un capitolo che si chiama se il tuo miglior collega sarà un robot, quindi dobbiamo avere da una parte una competenza orizzontale, dall'altra una verticale. Questo in poche battute è il mio consiglio principale, che posso dare sia al giovane che inizia, ma sia al manager che si reinventa. Luca, due informazioni di servizio velocissime. Io sono un orientatore, però geograficamente mi perdo sempre. Ci ricordi dov'è che presenterai tra qualche giorno il tuo libro? Sì, sono felice perché ho presentato il libro a Pavia qualche settimana fa, ma il 4 maggio finalmente lo presento a Milano, quindi 18 e 30, Est, che è un locale fighissimo che sta in via Pietro Calvi, vicino a Piazza Cinque Giornate, con me, Luis Ellaggiani di Oracle, Alberto Giuffredi Sky TG24, Monica Magnoni di Spencer & Lewis, insomma un bel evento, non vedo l'ora. Bello, bello. Vi aspetto, vi aspetto. Assolutamente. Quindi Factor si colloca tra Sky, presentazioni super. Poi l'altra informazione di servizio, ma in tutto questo, LinkedIn come si colloca nella ricerca del nuovo lavoro? Beh, LinkedIn è fondamentale, nel senso appunto io sono arrivato a questo lavoro perché scrissi quel libro su LinkedIn, ma poi tutti mi contattavano per chiedermi consigli su come trovare lavoro, quindi oggi è una fonte indispensabile. Se anche lì posso dare un consiglio, come dire, nei junior, è una fonte indispensabile proprio per il job posting che c'è all'interno di LinkedIn. Più si diventa senior e più LinkedIn invece diventa fondamentale per il suo network, quindi per la conoscenza dei professionisti che possono abilitarci ad avvicinarci ad una posizione lavorativa. Io sono un grande fan come voi, ci siamo conosciuti su LinkedIn, insomma. Assolutamente sì, siamo perfettamente d'accordo, giusto Maurizio? Sì, poi si incontrano bellissime persone come Luca. Come voi, grazie. Grazie mille Luca, grazie, grazie di tutto. E niente, ti rileggeremo sul tuo libro. Bene, grazie mille. Lo faccio vedere? Non si vede, caspita. È un po' affuscato, però va bene. Poi si ci sono tra le sovraimpressioni. Esatto, esatto. Lo vedranno nella grafica. Grazie mille, ciao. Ciao, grazie. Ciao, grazie a tutti.